Purtroppo oggi non possiamo sentire al telefono i nostri cari amici Jacopo e Gabriele perché anche loro sono impegnati a costa di qua e di là anzi ieri sera hanno fatto un gran lavoro perché gli ho detto ragazzi abbiamo già il mix per oggi e Massimo mi hai detto che il mercoledì non c'è non solo dance avete ragione ragazzi però il dottor Masolini con obiettivo bellezza ritornerà poi a metà gennaio e allora noi prendiamo anche il mercoledì e loro subito vi hanno scornato un nuovo mix for you e ce lo ascoltiamo oggi ovviamente qui su Web Radio Vertigo One abbiamo già sentito il loro messaggio vocale che ci hanno mandato prima però io vorrei farvelo così riascoltare visto che prima ci abbiamo scherzato un po' sopra io ve lo faccio sentire il loro messaggio ciao a tutti siamo sull'autobus torniamo da scuola perché sono le due e visto che dovevamo fare il messaggio vocale insieme esatto perché poi vado a casa e non ci sono devo mangiare quindi ve lo presentiamo ora al mix è un mix dip oggi un po' più rilassante che è stato principalmente fatto da Gabriele quindi vorrei fare un applauso a Gabriele bravo Gabri fai un applauso te scusa uno a casa che mi hanno trovato sull'autobus fai un applauso sono anch'io sull'autobus fai un applauso faccia un applauso grazie ok facci un applauso e mi raccomando se ricordi di ascoltare Radio Vertigo One lo ripeta io ascolto? niente eh non ascolta niente poverino e sordo il nostro amico comunque comunque niente buon ascolto e vado a mangiare grazie per i complimenti e mi raccomando si salta sul letto con il camussi ciao a tutti ah sul letto con il camussi non più sul divano bene bene molto molto bene allora ragazzi diamo la parola alla nostra Adri che ci presenta i nostri mister Gabriele e Jacopo con il nostro Mix4You di questo bel pomeriggio direi molto molto soleggiato vai Adri eccoci siamo pronti questo è lo spazio Mix4You 4 minuti di energia mixata da Jacopo Saliani e Gabriele Bernardi 4 minuti di energia mixata da Jacopo Saliani e Gabriele Bernardi Mix4You 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 collega la tua mente e non pensare a niente